salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi è arrivato finalmente è disponibile non è ancora disponibile all'acquisto infatti non si sa ancora il prezzo non si sa ancora la disponibilità ma il nuovo hotelivo 2 è arrivato è stato presentato oggi in maniera ufficiale alle ore 17 hotel robotica ha lanciato il video su youtube diciamo il video pubblicitario in cui fa vedere in tutto il suo splendore in tutte le sue caratteristiche allucinanti questo fantastico drone il nuovo hotelivo cioè il nuovo drone arancione quindi ragazzi adesso guardiamo insieme il video e poi ne commentiamo ancora insieme le sue caratteristiche facciamo partire il video il ragazzi è già entusiasmante di suo è un video secondo me fatto benissimo che fa venire voglia di acquistare questo drone perché mette veramente a nudo tutte le caratteristiche di questo drone partendo dai sensori un drone che ha fatto un notevole passo in avanti da un drone che era già ottimo cioè la hotelivo 1 questo qua abbiamo un notevole passo in avanti ma veramente sotto a tutti gli aspetti il colore che rimane arancione secondo me fanno bene a mantenere questo colore che lo rende unico abbiamo tre modelli e abbiamo una versione pro una versione chiamiamola così normale è una versione quella diciamo per lavoro dove c'è la camera con gli infrarossi allora guardate qua mettono a nudo tutte le sue potenzialità a livello di telecamera dove tanta tanta roba ragazzi perché qua adesso andremo a vedere le sue caratteristiche sono impressionanti qua abbiamo un dynamic tracker 2.0 quindi un'evoluzione di quello che era il dynamic tracker di questa versione con intelligenza artificiale il controller sembra ancora lo stesso perlomeno esteticamente abbiamo 360 gradi di diciamo visualizzazione degli ostacoli 40 minuti di volo cioè un'autonomia direi non indifferente abbiamo otto tipi di voli intelligenti i video in hdr cioè chi ne ha più ne metto ragazzi pazzesco pazzesco davvero vedete che il controllo era ancora questo qua lo vediamo in azione ragazzi non so cosa dire cioè guardate che roba che è impressionante cioè qua veramente una camera 8k cioè tutto dire da 48 megapixel perché saranno tre versioni anche le telecamere anche se intercambiabili quindi noi acquisteremo una versione vedete qua la versione a 6k con il sensore a un pollice ripeto a un pollice cioè veramente chi ne ha più ne mette vedete qua la ripresa video con questo sensore a un pollice qua la telecamera dual thermal dove c'è il sensore a infrarossi che rileva il calore questa ma appunto per diciamo uso lavorativo per determinate situazioni di lavoro e vedete qua il gimbal intercambiabile cioè dopo che l'abbiamo acquistato potremmo acquistare anche il gimbal separatamente e andare a sostituirlo in base alla nostra necessità 9 chilometri di range in fcc ovviamente poi va bene fa vedere il sistema di sicurezza delle batterie di sgancio qua delle reliche poi abbiamo 8 giga di memoria interna più la possibilità di un sd da 250 mega circa 70 chilometri all'ora long color profile cioè ragazzi non so più di così ma che cavoli si vuole più di questo questo qua è impressionante cioè vedete evo 2 pro evo 2 evo 2 dual sono le tre versioni di questo fantastico drone praticamente all'acquisto chi lo vorrà acquistare dovrà decidere con che telecamera acquistarlo ma poi in seguito se proprio uno volesse potrà andare a sostituire il gimbal e avere l'altra telecamera e via dicendo quindi questa intercambiabilità delle telecamere potranno dare un diciamo un utilizzo maggiore a chi utilizza questo drone sia per lavoro che non quindi la possibilità di avere due obiettivi da utilizzare o anche tutti e tre per dire se uno proprio volesse ragazzi non so ditemi voi per me è un drone pazzesco questo era un drone allucinante fantastico ormai è già quasi due anni che è stato presentato e giustamente evo lancia questo nuovo modello vabbè le cose principali vabbè allora rispetto a questo sono nella fotocamera che sono spaziali perché siamo arrivati ad avere una fotocamera da 6k 8k quella 6k addirittura con un pollice che attualmente nessun drone richiudibile ha una fotocamera a un pollice drone richiudibile sottolineo richiudibile ha una fotocamera a un pollice qua abbiamo un pollice con una risoluzione a 6k mentre quella 8k sarà 48 megapixel addirittura cioè allucinanti allucinanti se calcoliamo che questo è stato anche il primo drone richiudibile e forse tuttora lo è a oggi lo è ancora con un 4k a 60 fps perché nessun drone richiudibile attualmente lo è arriveranno ma adesso è ancora lui il re incontrastato della fotocamera 4k a 60 fps poi una cosa che ovviamente è stata integrata e che mancava perché allora non esistevano ancora è stata la prima dj a introdurla cioè questa diciamo bolla che va ad avvolgere il drone per proteggerlo a 360 gradi adesso ce l'avrà anche l'auto e l'ivo 2 l'auto l'ivo 1 ce l'aveva solo frontali e retro mentre non gli aveva sopra sotto lateralmente adesso avrà anche questo 40 minuti di autonomia e direi tanta roba anzi tantissima roba che a 40 minuti iniziano ad essere davvero tanti 9 chilometri di range direi niente male anche quello praticamente un po in stile mavic 2 e cosa dire il controller che a vedere le immagini sembra ancora questo per lo meno esteticamente poi se cambierà qualcosa a livello magari di costruzione non si sa però esteticamente questo perché un controller fantastico abbiamo un display oled a colori che ci permette di pilotare il drone anche senza lo smartphone quindi veramente fatto benissimo gli stick a livello di costruzione questo controller eccezionale in più è piccolissimo diventa richiugibile anche la posizione dello smartphone è super comoda cioè veramente il controller hanno fatto bene a mantenere questo magari l'hanno migliorato magari in qualche cosa a livello meccanico però ha fatto bene a mantenere questo controllo che secondo me è spettacolare quindi ragazzi non so neanche io cosa dire perché secondo me è un drone eccezionale ovviamente bisognerà vedere il prezzo come vi ho detto all'inizio non è ancora disponibile il prezzo di nessuna di queste versioni e anche la disponibilità o meglio di quando sarà disponibile non si sa ancora una cosa è certa che sarà un nuovo punto di riferimento dal punto di vista dei droni per riprese video perché sicuramente adesso qua la sticella si è alzata di brutto ma si è alzata di brutto in un colpo solo cioè in un attimo ci siamo alzati con una sticella pazzesca su un drone richiudibile perché siamo passati dai 4k 30 fps di dji che è il limite massimo senza avere un sensore a un pollice e siamo arrivati adesso ad avere addirittura 8k o 6k col sensore a un pollice quindi veramente qua si è saliti davvero davvero di brutto in più c'è la possibilità anche di avere la versione per uso lavorativo con la fotocamera dual che va a riprendere il sensore a infrarossi le zone calde cioè tutte queste cose che per tanti che usano per lavoro il drone per fare queste cose diventa davvero utile e poi senza tralasciare il discorso che abbiamo fatto prima del fatto che la telecamera sarà intercambiabile quindi chi acquisterà il drone con una telecamera potrà poi andare a sostituirsela da solo avere una doppia fotocamera non è da sottovalutare perché è stata una cosa che si era tanto parlato anche per dji il fatto di avere la possibilità di sostituire le telecamere che poi in realtà non c'è stato con hotel e vu si potrà fare perché chi acquista una fotocamera o meglio chi acquista un drone con una fotocamera poi potrà acquistare separatamente un'altra fotocamera cioè l'altra versione della fotocamera quindi avere un intercambiabilità se è interessato ad averla ragazzi io non posso che parlare bene di questo drone arancione perché è fantastico cioè già questa versione è eccezionale quindi non voglio immaginare che livello sia quella versione perché se questo è già il punto di partenza dopo due anni veramente c'è stato un salto in avanti pazzesco in più parliamo di un marco che fa un prodotto che non consistente di più cioè veramente è un prodotto che non è solo diciamo l'alternativa a dji dal punto di vista dei droni richiudibili è proprio un altro prodotto costruttivo nel senso che questi hanno una concezione a livello di materiale di roba che secondo me dji non ha a meno attualmente non ce l'ha questi hanno a livello di consistenza fanno un drone che è fantastico non ci resta che aspettare appena so i prezzi le disponibilità magari ve lo comunico così se qualcuno interessato lo potrà acquistare o prenotare quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale l'anteprima presentata oggi 7 gennaio alle ore 17 del nuovo teleivo 2 vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatto se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube non perdevi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial ciao